Il canale tematico disegnato per promuovere l'immagine italiana nel mondo è interamente prodotto dalla New Corai International e si chiama Yes Italia. Importante e strategica priorità nell'agenda politica nazionale e delle amministrazioni locali che non possono prescindere da una comunicazione efficace mirata a rilanciare la propria immagine nel mondo, riteniamo sia giusto e doveroso per l'Italia, per la paesaggistica mondiale, dotarsi infatti di un canale per la diffusione dell'eccellenza dei suoi scenari naturali, del suo patrimonio artistico e culturale e soprattutto dell'universalmente noto e apprezzato Made in Italy. Non poteva che essere il servizio pubblico a farsi carico di un progetto di una tale rilevanza e a farsene interprete coinvolgendo in particolare, ma non solo, gli enti territoriali che potranno beneficiare di un sicuro ritorno di immagine e di un concreto aumento di presenze a vantaggio delle proprie strutture ricettive. Il progetto nasce da un'idea di Osvaldo Bevilacqua, personalità giornalistica di grande spicco nel settore, conoscitore profondo del RAI e delle sue teche, come del paese e delle sue molteplici bellezze e realtà territoriali. Il palinsesto di Yes Italia verrà organizzato seguendo tre distinti filoni, aree e tematiche trasversali, ad esempio paesaggi, storie, arte, natura, focus territoriali nazionali e su singole regioni e province, promozione di eventi speciali. È prevista inoltre la possibilità di realizzare, nell'ambito della programmazione del canale, una serie di interventi calibrati su specifiche esigenze e strategie di comunicazione, mirate alla valorizzazione delle risorse turistiche italiane. Yes Italia sarà dunque un percorso tra monumenti e architetture che testimoniano l'affascinante storia culturale italiana, la suggestione dei luoghi sacri e delle vie del pellegrinaggio che da sempre attirano nel nostro paese fedeli da tutto il mondo, i racconti dei luoghi in cui sopravvivono l'artigianato unico e originale e gli antichi sapori, usi e costumi che si tramandano da generazioni, un flusso continuo di immagini che raccontano un luogo ricco di mari cristallini, montagne incantate e scenari da favola per vacanze indimenticabili, un contenitore di suggerimenti per alimentare il desiderio di un viaggio nel paese che l'immaginario collettivo colloca in una cornice di fascino unica al mondo. Nuco Rai International è pronta dunque ad affrontare la sfida del mercato globale e ad attirare partner e investitori con un progetto di sicuro sviluppo che porterà l'Italia alla ribalta dello scenario televisivo internazionale. Grazie per la visione!